No, no, allora Presidente, siamo arrivati alla fine di questo pellegrinaggio? Sì, la conclusione di una magnifica giornata che rimarrà memorabile, la ricorderemo per molto, molto tempo, adesso presto ne riproporremo un'altra, giusto proprio per rinfrescare la memoria a chi soffre un po' di dimenticanze, allora cercheremo di andare magari a Roma.